E' bella a tutti ragazzi, eccoci qui oggi, tornati in questo mio nuovo video e in questo video vi vorrei spiegare cosa sta succedendo sul canale allora, ho appena finito di fare una live, ma una live è andata così, proprio niente perché ho problemi di connessione, infatti se per esempio accendo la connessione di un mio dispositivo salta tutto, ma in questo video vorrei parlare, poi quello lo sistemerò in questo video vorrei parlare di un altro argomento, il fatto dei moderatori allora, si diventa moderatori nel mio canale quando si vedono sempre le live e non si deve fare iscritto ricambio, un vero moderatore sta nelle live per moderare alla gente che bestemmia oppure che dice di andare alle sue live, iscritto ricambio si può fare non la gente che viene e dice iscritto ricambio, non posso fare a quella persona moderatore o moderatrice non posso farla, mi serve una persona che resti in live quindi ora, molti moderatori, io ho sbagliato a farli, facevano proprio queste cose sbagliate, almeno sul mio canale e quindi ci saranno pochissimi moderatori, ne toglierò tantissimi, quindi ce ne saranno molti in meno e niente raga, voglio dirvi, sul mio canale sta succedendo questa cosa poi succedono delle varie confusioni nei commenti, delle live raga, ma per piacere, ma facciamo i seri non dite, per esempio, Nicolas, ho appena finito, si stava litigando con gli altri perché dice di venire nel mio clan però poi, se non entra, si mette a piangere e ovviamente poi quegli altri vengono e dicono, non fare il bambino, non fare il bambino allora raga, facciamo una calmata, vi prego facciamo una calmata su questo canale vi volevo dire solo questo fatto raga, quindi i moderatori saranno dimezzati, ce ne saranno pochissimi ci saranno uno che ci sarà sicuro è Silver, Silver Fox perché quello lì sta sempre in live anche se non chatta, ci sarà, c'è sempre ovviamente quando ho un impegno mica può restare in live quindi niente raga, questo qui è un breve video per dirvi queste cose e niente raga oggi forse ci sarà un'altra live speriamo che vada bene e niente, spero che questo video vi sia piaciuto di informazioni, questo video e niente, bella raga, ci vediamo stasera forse con una nuova live bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti